Sceva Eliana? Che donna era? Desuperante, grintosa. Era grintosa e sempre sorridente Eliana Magliori Caratella. Amava i suoi due figli di 9 e 11 anni. Aveva la passione per la montagna, lo sport e il suo lavoro in banca. È stata uccisa ieri mattina a 41 anni da Giovanni Carbone, 39enne, nato a Matera. L'uomo che Eliana credeva di amare e con il quale si era trasferita qualche mese fa qui a Miglianico, in provincia di Chieti. I carabinieri hanno trovato Eliana riversa a terra nella taverna. È stata raggiunta da un colpo di pistola di spalle che l'ha presa in testa. Un colpo sparato da Giovanni Carbone, pregiudicato per reati contro il patrimonio, con una pistola calibro 9, probabilmente detenuta illegalmente. L'uomo, dopo averla uccisa, si è costituito in caserma intorno alle 12. La relazione con quella che è diventata la sua vittima era iniziata due anni fa, dopo che la donna aveva interrotto i rapporti con l'ex marito, padre dei suoi due figli. Eliana era seguita dai servizi sociali di Miglianico per alcune frizioni avute con l'ex, mentre nessuno tra i vicini si è mai accolto di liti o problemi con il nuovo compagno, che le ha tolto la vita in una vera e propria esecuzione. C'erano problemi con l'attuale compagno? Sì, è una tale tragedia. Un abbraccio ai bambini, spero che dal di là possa dare la forza appunto alla famiglia di andare avanti.